Sono preoccupato per tutto l'ambiente che vedo qua tutti sottosopra, credevo fosse un affare. È stato Fernando Benelli, 100 anni in questi giorni, il primo over 80 versiliese a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer anti-Covid-19. Il vaccino Dei in Bersilia ha avuto luogo a Querceta nella sede della Croce Bianca dove sette medici di medicina generale si alterneranno per le vaccinazioni della popolazione più fragile del territorio. Per adesso ci mandano sei vaccini per ogni medico, siamo in sette medici, facciamo 42 vaccini la settimana, poi quando si comincia fra tre settimane le secondi dosi di richiamo si farà il mercoledì e il giovedì 42-42. Poi spero che la cosa diventi più veloce, che ci si metta meno tempo, per cui probabilmente speriamo di raddoppiare e di mantenere il ritmo su due giorni solamente. Alla prima di questa fase di vaccinazioni è voluto intervenire anche il sindaco di Seravezza, Riccardo Terabella, felice che il via in Bersilia sia stato dato proprio dal suo territorio di competenza. Per noi è importante, è veramente importante questo ed è un momento per una società che non vede l'ora di uscire da una situazione di crisi e la mia vicinanza a queste persone è totale. È stato un anno durissimo nel quale l'amministrazione e io personalmente siamo impegnati tantissimo, era il momento giusto e speriamo che continui così con questo sistema. La struttura della Casa della Salute, allestita alla Croce Bianca, è una delle più funzionali per i medici di base per lo svolgimento di tutte le procedure della vaccinazione, dalla preparazione delle dosi alla possibilità di tenere sotto osservazione i pazienti una volta vaccinati. Saranno 1560 gli ultraottantenni vaccinati in questa struttura per una previsione di termine della campagna, tra vaccino e richiamo, di circa tre mesi, approvvigionamento delle dosi di vaccino Pfizer permettendo.